È stato fatto da Gialic, potrei essere d'accordo in parte se facciamo la considerazione sul primo tempo di Bergamo e su alcuni momenti della partita di Torrella. Per quello che riguarda i quattro pareggi che abbiamo fatto purtroppo nell'ultimo mese, le prestazioni con Cagliari e Sassuolo sono state assolutamente positive e mancato il cinismo per poter venire la partita. Comunque arriva questa vittoria, importantissima, perché la facciamo in maniera convincente, perché la facciamo contro una squadra interessata alle posizioni alte della classifica e soprattutto capaci di fare un bel gioco con ottime individualità.